Domina le tue emozioni. Tecniche sorprendenti per una gestione efficace. Nel mondo frenetico di oggi, imparare a gestire le emozioni difficili è fondamentale per il benessere personale. Emozioni come l'ansia, la rabbia o la tristezza possono essere opprimenti, ma ci sono tecniche efficaci che possono aiutare a controllarle. Una delle metodologie più innovative comprende tre tecniche sorprendenti, il respiro controllato, la visualizzazione guidata e il distacco razionale. Queste strategie sono state sviluppate per aiutare le persone a trovare un equilibrio emotivo e a migliorare la loro qualità della vita. La prima tecnica, il respiro controllato, si basa sull'utilizzo consapevole del respiro per calmare la mente e il corpo. Respirare profondamente e ritmicamente aiuta a ridurre il livello di stress e a ristabilire un senso di pace interiore. Approfondendo il respiro controllato, si scopre come questa pratica non solo calma temporaneamente, ma insegna anche a gestire lo stress in modo proattivo. Con il tempo, questa tecnica può diventare un rifugio sicuro nelle situazioni di tensione quotidiana. Segue la visualizzazione guidata, un metodo che utilizza la potenza dell'immaginazione per rilassarsi e distaccarsi dalle preoccupazioni immediate. Questa tecnica incoraggia a visualizzare scenari pacifici e rilassanti, aiutando così a ridurre significativamente i livelli di ansia e stress. La visualizzazione guidata è un potente strumento per alleviare stress e ansia. Immaginando scenari pacifici, il nostro corpo risponde rilassandosi come se fossimo davvero in quei luoghi tranquilli, aiutando così a ridurre i livelli di stress. Il distacco razionale, invece, ci insegna a osservare le nostre emozioni senza esserne sopraffatti. Questa tecnica ci permette di prendere decisioni più ponderate, gestendo le emozioni in modo più efficace e mantenendo la calma nelle situazioni stressanti. Integrare queste tecniche nella vita quotidiana può trasformare radicalmente il nostro approccio alle sfide giornaliere. Praticandole regolarmente, possiamo migliorare la nostra resilienza emotiva e la nostra capacità di affrontare le pressioni senza cedere allo stress. Le testimonianze di chi ha utilizzato queste tecniche sono una fonte di ispirazione. Molte persone hanno condiviso storie di come la visualizzazione guidata e il distacco razionale abbiano migliorato significativamente la loro qualità di vita, offrendo loro strumenti per affrontare meglio le difficoltà. Gli esercizi pratici per il respiro controllato contribuiscono ulteriormente a questa trasformazione. Imparare a controllare il proprio respiro può avere un impatto immediato sul nostro benessere psicologico, calmare la mente e prepararci a utilizzare le altre tecniche più efficacemente. La tecnica del respiro controllato è un potente strumento per calmare la mente in momenti di stress. Inizia ispirando lentamente, conta fino a 4, poi espira lentamente alla stessa maniera. Ripetere questo ciclo può portare a un immediato senso di serenità. La visualizzazione guidata è un metodo efficace per combattere ansia e stress. Chiudi gli occhi e immagina un luogo pacifico dove ogni dettaglio contribuisce a un senso di tranquillità. Questo esercizio aiuta a distogliere la mente dalle preoccupazioni quotidiane. Il distacco razionale si basa sull'osservare le proprie emozioni senza giudicarle. Riconosci l'emozione, accettala e poi lasciala andare. Questa pratica aiuta a non rimanere intrappolati in reazioni emotive eccessive e a mantenere la chiarezza mentale. Per incorporare queste tecniche nella tua routine quotidiana, stabilisci momenti precisi della giornata per praticarle. La regolarità è fondamentale. Anche pochi minuti al giorno possono fare la differenza nel lungo termine, migliorando la gestione delle emozioni. Affrontare situazioni stressanti con queste tecniche può migliorare notevolmente la tua reazione. Ad esempio, prima di una riunione importante, prenditi un momento per praticare il respiro controllato, aiutandoti a entrare con una mente più calma e concentrata. Misurare il progresso nella gestione delle emozioni è cruciale per comprendere l'efficacia delle tecniche adottate. È possibile tenere un diario emotivo dove annotare le reazioni a situazioni stressanti e osservare come cambiano nel tempo grazie alle nuove abilità apprese. Le risorse supplementari sono fondamentali per chi desidera approfondire la propria conoscenza delle tecniche di gestione delle emozioni. Libri, corsi online e workshop possono offrire ulteriori spunti e metodi per affrontare efficacemente le sfide emotive quotidiane. Discutere l'impatto delle tecniche di gestione delle emozioni sul benessere psicologico aiuta a comprendere il loro valore. Studi e ricerche possono confermare come queste pratiche migliorino la qualità della vita, riducendo ansia e stress e aumentando la serenità interiore. È utile confrontare le tecniche di gestione delle emozioni con altri metodi per trovare quello più adatto a ciascuno. Alcuni possono preferire l'approccio meditativo, mentre altri potrebbero trovare maggiore beneficio in attività fisiche come lo yoga o la corsa. Infine, le domande frequenti, e facchi relative alle tecniche presentate, sono essenziali per chiarire dubbi e perfezionare la pratica. Rispondere a queste domande può aiutare le persone a sentirsi più sicure nel loro percorso verso una migliore gestione delle emozioni. Vi invitiamo calorosamente a condividere nei commenti le vostre esperienze e i risultati ottenuti applicando le tecniche di gestione delle emozioni che abbiamo esplorato insieme. La vostra partecipazione arricchisce la discussione e supporta gli altri nella loro crescita personale. Per concludere, vogliamo ringraziarvi per aver seguito il nostro video. Ricordate, la pratica costante è la chiave per il successo. Speriamo che le tecniche apprese vi siano di aiuto e vi incoraggiamo a integrarle nella vostra vita quotidiana per migliorare il vostro benessere psicologico.